131.com bentornati dalla Val di Peio si è conclusa da veramente pochi minuti la seconda amichevole del Cagliari nel ritiro trentino è finita 1 a 1 con la Feralpi Salò allenata dall'ex bandiera dell'Atalanta a Damiano Zenoni con gol di Marchi per la Feralpi Salò al 74esimo minuto e pareggio di Alberto Cerri a tre minuti dalla fine all'87esimo gol di piede di Cerri una novità si potrebbe dire vista la grande stazza del centrocampista Exparmia è stata una partita ostica maschia davvero combattuta dalla squadra lombarda che milita in Serie C tanti nomi noti o comunque insomma abbastanza di esperienza per quanto riguarda la Serie C primo fra tutti il capitano Andrea Caracciolo l'Airone l'ex centravanti storico del Brescia ma anche il centrocampista Ex Torres Simone Pesce diciamo un 1 a 1 con tanti tanti spunti tattici ma ne parleremo più avanti con il nostro Matteo Piano e segnaliamo subito che per larghi tratti Maran ha provato il 3-5-2 lo schema di riferimento in queste ultime giornate di allenamento diciamo che c'è tanto da lavorare su questo fronte per quanto riguarda il Cagliari che non a caso ha trovato il pareggio dopo essere tornata è tornato sul 4-3-1-2 insomma il classico schema che oramai contraddistingue il rosso-blu da più di dieci anni quasi oramai e qui dicevamo è stata una partita importante una giornata importante ma non solo per la partita perché soprattutto da sottolineare ci sono le dichiarazioni del presidente Giulini Tommaso Giulini presente in ritiro arrivato ieri proprio per la presentazione della squadra avrete letto il nostro report sulle parole del presidente durante la festa di ieri oggi è intervenuto nuovamente ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa al termine della partita tanti tanti temi affrontati soprattutto per quanto riguarda il mercato due i temi principali rog e nandez rog e giulini ha confermato la chiusura dell'affare rog dovrebbe domani sostenere le visite mediche a milano per poi tornare qui in val di peio per unirsi alla sua nuova squadra e quindi al cagliari sono stati giorni duri di trattative lunghe con tante lungaggini burocratiche ma finalmente marco roga arriva a cagliari per circa 15 milioni totali tra prestito e obbligo di riscatto un affare fortemente voluto dal mister ronando maran e soprattutto da marcello carli giulini ci ha raccontato alcune retroscena della trattativa come per esempio il grande lavoro di marcello carli l'intercessione potremmo dire di leardo pavoletti assolutamente uno dei leader dello spogliatoio rosso blu che hanno convinto il croato rog a vestire finalmente il rosso blu del cagliari con le altre due opzioni eintracht francoforte e genoa sul tavolo diciamo così però alla fine il croato ha deciso di venire a cagliari quindi da domani sarà ufficialmente un giocatore rosso blu ma l'altro fronte è quello di nandez quello su cui noi abbiamo sempre insistito diciamo così anche nelle giornate in cui sembrava che stesse per saltare l'affare tra Cagliari e Boca Juniors dopo le parole degli scorsi giorni della gente Paolo Bentancur dell'uruguayano e del presidente del Boca Daniel Angelici anche oggi o meglio oggi giulini ha confermato sostanzialmente l'affare ha detto abbiamo fatto l'ultima nostra offerta al Boca Juniors un'offerta che scadrà domani sera ma contiamo che sia effettivamente quella giusta perché abbiamo parlato anche con alcuni intermediari che ci hanno confermato come sia la cifra chiesta dal Boca per far partire Nandez stiamo facendo la corte davvero da tanto tempo al giocatore è un mio pallino ha detto giulini e anche di Andrea Cossu che è andato in Argentina a vederlo giocare è andato a vederlo anche o meglio è andato a vedere in finale di Coppa Libertadores che si giocò anche al Santiago Bernabeu di Madrid insomma quindi se non ci saranno ulteriori intoppi Nandez sarà un prossimo giocatore del Cagliari una grande spesa per quanto riguarda il club rosso-blu insomma si parla più o meno di circa 18 milioni di euro una spesa davvero ingente per questo calcio mercato estivo cosa aggiungere sul mercato a parte che trovate tutto l'estratto della conferenza su centrotrentuno.com altri due temi veloci Vicario abbiamo chiesto se fosse una sua scelta e il presidente si è messo a ridere fondamentalmente confermando questa questa ipotesi detto sì insomma l'abbiamo visto sia io che il mister e che lo staff dei preparatori dei portieri quindi è un grande giocatore di grande prospettiva andrà a giocare in in serie B e per quanto riguarda poi l'Olbia abbiamo chiesto anche un giudizio sullo stato dell'arte del club gallurese ricordiamo formalmente o meglio sostanzialmente la seconda squadra del Cagliari Giulini si è detto soddisfatto degli insomma dei traguardi raggiunti anche se ha ammesso che questo sarà un anno zero per la compagine gallurese allenata da Michele Filippi ricordiamo anche che le modifiche alle regole sul mercato e soprattutto sui prestiti hanno chiaramente cambiato un po' le carte in tavola ma la sinergia tra Cagliari e Olbia continua e soprattutto l'obiettivo è quello di continuare a presentare giocatori provenienti da Olbia anche nella nella prima squadra quindi nel Cagliari in serie A prima di salutarvi chiamo al mio fianco Matteo Piano buonasera a tutti ecco che vi presento formalmente in questi giorni è sempre stato dietro alla telecamera Matteo parliamo velocissimamente della partita che partita è stata come ti è sembrato il Cagliari la Ferralpisalo insomma cosa è stato? Innanzitutto è stato come ha detto Francesco un incontro molto ostico diciamo così è stata una partita per lunghi tratti difficile però ci sono delle note che sono sicuramente positive e tra questi sono sicuramente i giovani partendo da Valuchievic che ha giocato tutti i 90 minuti è stato sempre attento sulle chiusure e anche negli interventi chiaramente è molto bene anche il compagno di reparto Cepitelli che è già in piena forma se possiamo definirlo così è molto bene anche Pajac Pajac è veramente una sorpresa perché l'abbiamo visto l'anno scorso per metà campionata ad Empoli e ha dimostrato di essere un giocatore all'altezza della serie A anche quest'oggi è sceso più volte sul fondo ha messo dei cross interessanti un giocatore veramente positivo senz'altro l'altra nota è Oliva perché ci sta stupendo in questo ritiro sta dimostrando la classica guerra uruguayana sta dimostrando di essere all'altezza di questo gruppo e l'ha confermato anche Giulini per il resto l'altra novità più importante è il fatto che Bradaric sia stato arretrato sulla linea di difesa e anche qui sta cercando di capire lo stesso Maran quanto può effettivamente rendere in quella posizione ecco vediamo anche alcuni commenti dunque domani si decide per Nandez, Luca Secchi sì insomma domani dovrebbe essere la giornata sia di Rog che di Nandez la tua seconda domanda per il reparto avanzato Giulini ha detto siamo in 7 o in 8 nel reparto offensivo prima di comprare qualcuno dovrà necessariamente uscire qualcun altro ma si valuta sicuramente un profilo interessante ecco diciamo così di peso per quanto riguarda l'attacco si vedrà insomma poi anche nelle prossime settimane ricordiamo che mancano oltre 40 giorni alla chiusura del calciomercato per quanto Giulini abbia sempre detto di voler cercare di risolvere ecco la questione del mercato prima dell'inizio del campionato però vedremo insomma se davvero questo proposito verrà confermato diciamo così Gianluca Brundu se per caso si confermasse il 3-5-2 si interverrà sugli esterni tolti Lico Giannis e Pajac chi può fare l'esterno? Faragò? Matteo rispondi tu? Sì guarda sicuramente Faragò può essere un'alternativa questo ci abbiamo visto bene anche Lico Giannis in realtà che ha preso una traversa nel primo tempo chiaramente rimane un interrogativo anche Pinna che sta dimostrando di aver fatto diciamo così dei grandi progressi a Olbia e qui si sta impegnando tanto il problema sarà vederlo realmente durante le partite di Serie A e capire quanto il ragazzo possa essere possa essere all'altezza di situazione sicuramente ci sono tante squadre di Serie B anche di Lega Pro che sono interessate al ragazzo perché effettivamente sta facendo molto bene Ecco ricordiamo peraltro che dei Sardi ha parlato anche Giulini davvero nella conferenza stampa di oggi trovate il resto delle sue dichiarazioni su 131.com ringrazio Matteo del puntuale intervento sulla partita di oggi quindi una conferma di questo 3-5-2 che vedremo insomma quanto verrà utilizzato l'impressione è quella che sia l'arma di riserva l'arma tattica di riserva per quanto riguarda Rolando Maran perché si vuole comunque insistere sul consueto 4-3-1-2 c'è da dire che andrebbero registrate alcune cose dal punto di vista tattico per esempio il ruolo delle mezze ali che oggi per esempio al secondo tempo erano Castro e Birsa quindi bisognerebbe capire quanto tipo di equilibrio quale equilibrio potrebbe avere una squadra con Castro e Birsa nello stesso momento in campo quindi vedremo quello che riserverà poi anche il resto di questa preparazione estiva nel frattempo ci stanno attaccando le formiche volanti probabilmente si sta per mettere un bel diluvio sulla Val di Peio dicevo in chiusura oggi è stata anche la giornata chiaramente come ieri del Tour de France quindi Aru che nonostante abbia perso ancora terreno dei leader della classifica generale però è riuscito a guadagnare alcune posizioni sempre appunto in classifica generale ricordiamo che Aru è al Tour per preparare la vuelta quindi sarebbe anche ingeneroso criticare eccessivamente il ciclista di Villa Cidro che appunto si sta impegnando come può e reduce dall'operazione all'arteria iliaca quindi insomma una questione non certo di secondo piano per cui insomma vedremo come finirà il Tour de France il ciclista Sardo ma oggi c'è stato anche il rinnovo per quanto riguarda la Dinamo di Jean-Pierre quindi insomma un tassello importante che si aggiunge al centro croato Bilan per quanto riguarda appunto la costruzione della nuova Dinamo in vista della prossima stagione per cui insomma tanta carne al fuoco veramente per quanto riguarda tutto lo sport Sardo io vi rimando al nostro sito www.131.com alle nostre pagine social su cui trovare contenuti come per esempio foto, video, curiosità come per esempio l'ennesima incursione simpatica di Giovedo ai nostri danni oggi era già andato via Giovedo per cui anche il sottoscritto è più tranquillo per entrare in questa diretta domani ci sarà allenamento chiamiamolo di scarico di mattina di pomeriggio dovrebbe essere giornata libera come da tradizione dopo le amichevoli comunque la nostra copertura di questo ritiro continua soprattutto perché domani sarà appunto la giornata di Rogue sarà a questo punto anche la giornata di Nandez in senso positivo o in senso negativo come ha detto lo stesso Giulini potrebbe essere la giornata anche di Bradaric in partenza anche se Giulini ha avuto parole assolutamente dolci per il centrocampista croato per cui insomma vedremo domani sarà un lunedì ricco di notizie magari meno dal punto di vista praticamente sportivo del campo alle mie spalle ma tanto per quanto riguarda l'extracampo per cui insomma davvero restate sempre connessi su 131.com la nuova casa dello sport Sardo da Matteo Piano che ringrazio ancora una volta e Francesco Aresu qui dalla Val di Peio è tutto vi auguro buona serata e ci sentiamo domani grazie a tutti